ricetta di oggi spaghetto freddo di anguria e basilico partiamo tagliando l'anguria dividiamo la polpa dalla buccia dell'anguria che però non buttiamo diamo la polpa in un frullatore versiamo il liquido all'interno di un colino iniziamo filtrare iniziamo a preparare la salsa di anguria aglio olio extravergine succo d'anguria e nel frattempo cuociamo le bucce in acqua salata prepariamo una bagna agrodolce per le bucce di anguria con aceto zucchero corza di arancio cannella chiodi di garofano bacche di ginepro e anice stellate la portiamo a bollore e poi la raffreddiamo la buccia è cotta quasi trasparente ed ora la raffreddiamo in acqua e ghiaccio cubettiamo la buccia e la mettiamo a marinare nella sua bagna cuociamo gli spaghetti la salsa è quasi pronta aggiungiamo un po di concentrato di pomodoro ceto di mele tabasco e sale la pasta è cotta e la scoliamo in acqua e ghiaccio aggiungiamo la salsa mi salsa filo d'olio a crudo impiattiamo completiamo il piatto con qualche fogliolina di basilico e per ultimo la buccia di anguri agrodolce grazie 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 grazie